È stato un percorso non facile, però quando c'è tanta passione allora tutto diventa un pochino più semplice e sì, sono molto contenta. Rachele è la sintesi di 30 anni di lavoro di Anna Martinelli e Ornella Camillo, due donne e un'intera vita dedicata alla danza al punto di riuscire a creare un vivaio, una fucina, un laboratorio di talenti. Lo stage internazionale di progetto danza da 30 anni offre l'opportunità a giovani allievi di studiare, confrontarsi con insegnanti e professionisti di altissimo livello con Etual del Boshoi del calibro di Margarita Smirnova, oggi insegnante alla Teatro Carcano di Milano. 30 anni che sono volati, che sono iniziati quando eravamo noi delle allieve e quindi abbiamo piano piano costruito uno stage prima per noi e poi di anno in anno abbiamo cercato di ampliare. Adesso quello che noi da anni ci proponiamo è proprio quello di dare opportunità ai giovani. 800 ragazzi alla Ghirada di Treviso per 15 giorni di full immersion sulle punte per imparare a spiccare il volo dalla sala da ballo ai palcoscenici del mondo. Corronella e Anna collabora da anni, Cledi Cadio, insegnare la libertà della danza per riportare la danza in Italia. In Italia ci sono tante 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 fabbriche ma pochi negozi. Se devo fare un paragone per quanto riguarda lo studio, ci sono tante 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 scuole, pochissime compagnie dove i ragazzi non possono dar frutto a tutto lo studio che hanno fatto con una vita intera. Io sono felice di fare tutto questo perché quello che non ho potuto fare io mi fa piacere che lo possano fare gli altri e dopo come avete visto qualcuno comincia da piccolo e diventa anche poi una grandissima come la Rachele Vuriassi. Qual è il palcoscenico dove hai ballato che più ti ha emozionato nel mondo? Ah, il Bolshoi in Russia perché è veramente enorme, veramente grande. Sì, è stato emozionato perché naturalmente è anche uno dei teatri più famosi nel mondo e chi riesce ad arrivare a ballare lì sopra vuol dire tanto, è emozionante abbastanza. L'emozione di ballare con un compagno non solo di scena ma nella vita. È fantastico, è bello perché a volte è difficile trovare un partner con cui si ha tanta chimica. Noi l'abbiamo trovata subito e ballare è stato emozionante, bello. Sì, no. Sì, no. Sì, no. Sì, no.